Sto bruciando. Andrà tutto bene, Lizzie. Invece no! Non andrà tutto bene. Ascoltami, io non sto bene. C'è qualcosa che non va in me. Lizzie, lo so, e infatti cerchiamo aiuto. No, perché sto morendo, io sto morendo. Che succede? Cosa succede? Oh mio Dio. Che cos'è? Io non lo so. Oh mio Dio. Cosa succede? Io non lo so. Sono infetti. Aiutami. Aiutami, Sherlock. Aiutami. Lo sai che cosa devi fare? Sai che succede adesso?